AudioJungle 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 IoНАЯ io sono qua per una preview buongiorno a tutti è un bando di scommesso è un bando di Giulia vuole scommettere dei soldi ecco bravo se volete però dopo arriviamo a quel punto di vista per cui vi faccio vedere un po' di altre cose non sto a presentarla siamo completamente italiano ho dato a Torino nel 96 siamo presenti un po' in tutto il mondo abbiamo circa 6.300 persone ci occupiamo di digitare in ogni forma in ambiti completamente diversi che sono quelli di assunti della parte natale e quello che potrebbe essere una tv mi serve solo per dire che abbiamo delle reclinazioni in ambito di competenze che è una tenda che troviamo molto nell'innovazione e nei processi di innovazione e delle utenze tecnologiche per fare questo per fare questo non ripeto su questa parte di slide vado veramente molto veloce perché soprattutto Nicola nel suo intervento ha spiegato molto molto bene questi concetti e vorrei cercare di trasferirvi con due esempi molto reali e molto concreti vorrei spostare l'attenzione su due concetti legati all'aspetto dell'utilizzo delle tecnologie in sanità nella salute e nelle specie sociali uno che è un tema che è venuto molto fuori che è una preoccupazione o una preoccupazione diciamo che è una cosa che spesso ci sentiamo nella quale ci sentiamo contrapporre cioè l'umanizzazione della tecnologia è venuto anche fuori molto forte senza nessun tipo di preparazione in questo in questo evento e dall'altra parte vorrei provare a rispondere con un grado di livello di prontezza della tecnologia perché sono assolutamente d'accordo su questi su questi due elementi poi facciamo qualche riflessione a tal proposito vi lancio se riesco non sono io no non è qui non è qui no questa è una di predittiva come si questo è un video è un caso è una una situazione reale prima ve lo se parte va in Claudio perfetto c'è qualcosa però eh non si è allegro però Antonino non mi hai picchiato bene ma è allegro vai direttamente sui tutti magari ecco da quando si si ho 85 anni sono vedova ho due figli maschi con la luce spenta se mi muovo dopo si vede un periodo di tempo che stavo immobile la luce si accende è una compagnia e mi sento più sicura perché io quando passo da una camera all'altra io vedo la lucina che si accende e per me è una sicurezza è venuta questa ragazza si è guardata in giro mi ha messo nelle camere nel punto dove io passo nelle camere in cui io vivo di più e poi c'è stata una volta che si sono accorti per esempio che c'era un certo movimento alla sera e mi hanno chiesto spiegazioni era mio figlio che tornava a casa perché non è come quell'altro sensore che c'è che deve portarlo qui non deve avere non ha niente addosso è libera per lei lei fa quello che vuole è solo che è sorvegliata anelli altinello antonino per meglio dire ne compio 80 a giugno il 13 giugno e ovviamente mi sento più avvantaggiato è come avere una malattia come quella che ho e che praticamente il medico mi cura e dice prendi questo o prendi quello ecco per far funzionare questi sensori non ho bisogno di nessuna protezione nessuna cosa io sono Marzzecchia Emilia anni 90 io sono la figlia strafico Pierangela anni 64 mi hanno spiegato che se io mi muovo se vado di fuori si accendono se entro in bagno si accendono vado a stanze si accende si vede si vede proprio rosso eccola sensori cioè capiscono che la persona non si muove più per casa e mi chiamano ecco mi hanno chiamato mia mamma è rimasta sveglia per un po' di tempo già ero giurando fa per casa di notte e il sensore ha rilevato questo mi hanno chiamato appunto per sapere se era successo qualcosa a lei le ho chiesto ma lei ha detto che si è alzata e non riusciva più a dormire e ha girato un po' per l'appartamento ecco e prendo velocemente i due concetti che ho detto prima l'umanizzazione questa è una tecnologia è un servizio che è basato su una tecnologia una delle più consolidate al mondo per chi ama gli slang tecnologici che noi non dovremo mai usare quando facciamo presentazioni come queste e sono i peer degli infrarossi quelli che abbiamo in casa più o meno tutti per riscontrare i livelli dell'antifurto con questa soluzione noi abbiamo implementato un servizio non è solo una soluzione non ci interessa aprire o chiudere la casa domotica aprire o chiudere la tapparella a questo fine ma determiniamo le abitudini comportamentali dei soggetti dei soggetti fragili ovviamente e cerchiamo rispetto a queste di determinare eventuali variazioni rispetto ai comportamenti quindi sistema in grado con le logiche ben presentate prima da Nicola quindi non li sto a ripendere questi slang e questi termini con le logiche degli strumenti e dei motori di intelligenza artificiale riusciamo a determinare l'analisi comportamentale della persona quante ore dorme a che ora si alza al mattino mediamente che tipo di attività e quali movimenti se banalmente sembrerebbe un uovo di Colombo il riscontro a luglio sull'emergenza caldo quante ore la persona perché non ha un condizionatore un condizionatore un ventilatore sta di notte magari davanti al televisore quindi poi riscontrando una serie di altri problemi sulle patologie legate al sonno il sistema l'altro tema come avete visto il tema dell'uminalizzazione scusatemi ancora un focus come avete visto una piccola precisazione il video non è stato fatto da noi e per di più credetemi in assoluta sincerità ve lo dico le persone hanno parlato a ruota libera ovviamente c'è stato un montaggio fatto da un ragazzo dell'università di Lecco in questo caso ma assolutamente non è stato né gestito da noi è stata una presentazione di una cooperativa che nell'ambito dei servizi sociali di quell'area sociale di quei comuni ha costruito questo servizio insieme a noi ha voluto iniziare a lavorare con noi più di un anno fa su questo tipo di servizio e insieme l'esperienza sociale l'esperienza dei servizi alla persona della cooperativa l'esperienza dei medici vicino generale alcuni di quella zona specifica l'esperienza in più di sociologi e di psicologi che hanno studiato il comportamento delle persone ci hanno permesso di costruire questa soluzione e qui arriviamo al secondo livello la prontezza che dicevo prima oggi quando noi tecnologi parliamo trasferiamo usiamo per nostra cultura non nascondo anche per nostra passione se ci fosse qua Francesco guarderei principalmente lui trasferiamo concetti e slang un po' di settore un po' difficili ai più immaginare che cosa vuol dire un log analysis piuttosto un deep learning piuttosto che intelligenza artificiale tutti noi immaginiamo queste cose poi magari ci poniamo dei dubbi se quanto sono reali rispetto alla vita immediata perché sembrano sempre concetti in qualche caso molto futuristici di cose che vanno molto in là ma in realtà di nuovo tornando e mi è piaciuta molto la prevasi dove eravamo ad Asiago 2016 dove siamo adesso ad Asiago 2017 questo tipo di soluzione l'anno scorso forse vi ricordate chi c'era non credo non la presunzione che ve lo ricordiate avevo annunciato questo tipo di soluzione dopo sul giochino che non ho fatto anticipo questa cosa perché non ho fatto proprio esattamente con lei non ce l'ho qua ma se vuoi la costruiamo la faccio vedere in tempo reale vi annuncio una cosa su cui lavoreremo e magari presentiamo la prossima per le prossime edizioni questo è semplicemente per dimostrarvi quanto una cosa quanto l'utilizzo di questi meccanismi l'utilizzo di queste tecnologie questo è uno dei mille esempi che si possono fare sono estremamente concreti e possono veramente rivoluzionare l'approccio sia di erogazione dei servizi che l'approccio economico dell'erogazione dei servizi qui stiamo parlando di soluzioni che hanno costi di qualche decina di euro inferiore ai 50 per essere chiaro al mese voi sapete che un servizio di badantaggio analogo per assistere una persona con quel livello di fragilità semplicemente per assistere alla nostra costa quei valori per circa 2-3 ore notturne per circa 2-3 ore notturne a seconda di quale parte dell'Italia guardiamo quindi dal punto di vista macroeconomico e dal punto di vista della prontezza le soluzioni sono assolutamente adatte per questo taglio la slide successiva è un esercizio che vi faccio vedere è un esercizio che vi faccio vedere anticipando un altro progetto nel quale noi stiamo investendo ovviamente per la dimensione di un'azienda come la nostra una serie di risorse economiche di tempo molto importanti cioè l'utilizzo degli strumenti anche di nuovo qua di intelligenza artificiale per determinare in processi di gestione del video di telemedicina di chiamata amica di un servizio sociale a casa di una persona di determinare anche qui in modo automatico dai dati che riceviamo una serie di elementi con degli automatismi qua mai per questa mia personale interpretazione il sistema di intelligenza artificiale il risultato dei sistemi di intelligenza artificiale per meglio dire sostituirà una decisione né medica né sanitaria né sociale ma devono essere probabilmente possono essere dei sistemi di supporto alla decisione perché se parafrasiamo il sistema ed è evidente che tutti noi sappiamo benissimo ce lo siamo detto è stato detto molto molto bene in questi giorni si dice in tutti i convegni tutti noi avremo più bisogno di domanda perché saremo sempre tutti più vecchi è impensabile che il sistema sia mantenuto con il livello di attività umane così come è fatto ad oggi la tecnologia bisognerà obbligatoriamente introdurla bisogna obbligatoriamente introdurla questo è un esercizio a sinistra c'è un algoritmo che determina in automatico alcune cose le semplici che è un uomo che sta mangiando l'età quindi scusate qua non si vede 38 anni io ieri sera ho scherzato con Giulia poi non avevo capito se l'aveva presa bene o no volevo oggi farvi vedere la sua fotografia quindi il sistema se volete sul pc ve lo posso far vedere e quindi ho inserito questa immagine la cosa importante a cui già arriviamo il sistema è in grado di capire se questa persona è felice o no dall'espressione il sistema è già in grado su particolari immagini ovviamente ho usato questa fotografia una fotografia di una persona perché è più esemplificativa il sistema è già in grado di capire un livello di macroanalisi su alcune patologie epidermiche il sistema è già in grado di capire di cercare delle correlazioni sta studiando delle correlazioni se durante un processo di telemedicina televisita o di chiamata mica c'è una corrispondenza questa ricerca e sviluppo ammetto vera quindi per questo vi dico ve ne parlo adesso ma vediamo il prossimo anno qual è il risultato la ricerca e sviluppo è vera se c'è una correlazione tra lo stato di percepito positivo o non positivo della persona durante il momento della cura durante il momento dell'esame con il ritorno temporale rispetto alla cura stessa quindi cerchiamo di capire una cosa molto semplice se una persona è felice e soddisfatta guarisce prima di un'altra parità di patologia di cura e di situazione questo perché perché ovviamente sempre di più immaginiamo che ci sia necessità di strumenti come questi per supportare i momenti di contatto che saranno probabilmente in qualche caso anche sempre più da remoti per quello che ci siamo detti tra chi espreta la cura e chi ha bisogno di quella cura io mi sarei fermato così ho cercato di recuperare tempo io vi chiedo ancora qualche minuto di attenzione anche per la disponibilità che Andrea Nicolini e Roberto Soia hanno avuto nell'attendere a intervenire alla fine di questa giornata e quando loro avranno terminato non vi farò perdere ulteriormente del tempo rispetto poi al fatto di poterci godere tutti quanti il weekend è probabilmente una giornata di sole Andrea Nicolini da anni lotta tra la burocrazia centrale e la burocrazia delle regioni al servizio delle regioni perché ci sia un'accelerazione nelle opportunità che le tecnologie rendono disponibili con lui abbiamo alternato momenti di grande euforia e di grande frustrazione perché non posso nascondere che a volte percepire che determinate tecnologie possono veramente impattare anche sulla qualità della vita delle persone e sulla valorizzazione delle professioni tra quali quella medica e vedere che queste cose non riescono a cadere nei tempi che potrebbero essere utili genera frustrazione altre volte abbiamo condiviso invece momenti di contentezza perché quello che sembrava impossibile raggiungere è stato raggiunto poi i nostri percorsi sono separati perché io adesso lavoro in un comune mentre lui continua a lavorare da cerniera tra i ministeri interessati e le regioni per fare da strumento di agevolazione Roberto Soi è su un altro fronte quello delle in-house società nate quando l'informatica era veramente qualcosa di nuovo ed esoterico e che adesso devono necessariamente cambiare pelle per adeguarsi a tempi diversi tempi in cui il mercato dà maggiori garanzie rispetto a un tema quello dell'IT che quando queste sono state costituite per cui a cavallo degli anni 70-80 richiedeva probabilmente che lo Stato che è così per Sogei a livello nazionale e che le regioni e alcuni comuni come per esempio Venezia avessero degli strumenti attuativi su cui esercitare anche un controllo perché il controllo soprattutto del dato in quel momento veniva visto con particolare attenzione per fortuna infatti l'Italia è un paese dove sono accaduti pochi incidenti rispetto ad altri contesti vi lascio la parola grazie per aver atteso e grazie a tutti per l'attenzione che avete avuto questa mattina grazie Roberto grazie per l'invito agli organizzatori la mia prima partecipazione ad Asiago all'assame all'assame school quindi io non posso fare confronti 2016-2017 e anzi mi scuso perché sono arrivato in realtà ieri sera tardi ho perso la cena e parlando di cena adesso che siamo alle 1.20 è un dramma parlare a quest'ora considerando l'interesse per quello che sarà il proseguo della giornata dicevo ho sentato la cena però l'ho pezzata con un ottimo toast del bar dell'albergo che era veramente ottimo a quest'ora per provare a rendere interessante la cosa io proverei a fare una domanda salendo ieri in macchina macchina intelligente grande quantità di intelligenza artificiale nonostante sia una macchina da 20.000 euro ma ormai la pubblicità della distrazione con la pubblicità del fisico e poi la macchina che ferma perché ha due telecamere il laser e tutto quanto ma la cosa che impressiona di più è come gestiscono i fanali in automatico abbaglianti e anabbaglianti questo è veramente stupefacente non è vera intelligenza artificiale ci sarebbe da discutere ma io faccio un appello invece all'intelligenza umana che già non sappiamo cosa sia però insomma dovremmo cavalcare quella perché come è stato detto da qualcuno oggi prima nei tanti spunti arrivati se non governiamo la tecnologia con una grande dose di intelligenza umana non riusciamo a ottenere i risultati e non sfruttiamo il potenziale che abbiamo quindi mentre salivo in macchina ieri ascoltavo RDS la radio e la radio ha fatto un quesito dando due notizie dicendo che una delle due è una bufala e io oggi lo ripropongo a voi io l'ho sbagliata lo propongo a voi vediamo se anche voi l'ha sbagliata ma l'80% degli italiani hanno sbagliato la risposta poi mi sono informato e vi do la spiegazione allora le due notizie che loro hanno citato una delle due è bufala ripeto le due notizie sono negli Stati Uniti c'è un teatro che ha un sensore del livello degli applausi degli spettatori e se il comico che tiene lo spettacolo non fa raggiungere un certo livello di successo con gli applausi non viene pagato alla fine della serata questa è la notizia 1 la notizia 2 è che un teatro invece a Barcellona ha con degli tablet ha un sistema di face detection riesce a vedere quanti sorrisi fanno gli spettatori e gli spettatori non pagano il biglietto ma pagano un quantum a sorriso che fanno durante risata che fanno durante lo spettacolo comico alzate le mani per chi crede che la bufala sia la 1 cioè quella americana ok alzate le mani per chi crede che la bufala sia la 2 cioè la face detection ok la maggioranza anche qua ho sbagliato come ieri per radio è proprio la face detection teatro peraltro ho poi verificato perché io non lo sapevo la cioè la verità è la face detection quindi la bufala è quella del teatro americano quindi gli attori vengono sempre pagati e quindi gli americani non la pagherebbero cioè non rinuncerebbero a pagare l'attore anche se ovviamente è una tecnologia che si può fare la seconda invece è quella vera è un teatro di Barcellona che ha dal 2014 questo sistema ha aumentato gli incassi enormemente sono 30 centesimi a sorriso a risata per con un tetto di 80 risate che fanno 24 euro oltre 24 euro oltre 80 risate non si paga di più e se uno rimane serio per tutto lo spettacolo non paga niente quindi non paga niente proprio esce dallo spettacolo senza aver pagato hanno aumentato l'incasso medio a spettatori di 6 euro rispetto ai biglietti originari questa è una dimostrazione dell'utilizzo della tecnologia con intelligenza hanno sposato un modello di business completamente nuovo quindi hanno rivoluzionato il modello di business teatrale ovviamente hanno aumentato la qualità degli comici che chiamano e questo fa sì che effettivamente ci sia stata una rivoluzione per ora dal 2014 in realtà pochi teatri hanno emulato questa situazione ci vuole anche un certo investimento tecnologico perché tutti gli schienali delle sedie vengono dotate di tablet tablet che riconosce che conteggia lo spettatore con lo smartphone paga prima ancora di uscire quindi c'è anche può contestare la tabella mentre viene fatta insomma comunque a proposito di face detection giusto che tutti hanno citato Steve Jobs non posso non citarlo io ecco la ditta di Steve Jobs ovviamente sapete l'iPhone X ha fatto tanta pubblicità si sblocca con face detection ed è bellissima guardate nei tweet guardate è bellissima la battuta relativa al fatto che un pagliaccio non riesce a usare l'iPhone X perché face detection non riesce a riconoscerlo ho visto sempre i suoi continui cambi trucchi e quant'altro quindi molto simpatico il concetto per la prima volta Apple ha tagliato fuori una parte di mondo e ha tagliato fuori in questo caso i clown e gli attori e quant'altro detto questo perché ho fatto un appello all'intelligenza umana perché il potenziale di prima dicevamo va sfruttato in sanità e non lo sfruttiamo assolutamente non c'è neanche bisogno di dire siamo super indietro eccetera gli interventi di oggi hanno dato tantissimi spunti bellissimi vanno benissimo super condivisibili c'è un piccolo dettaglio non abbiamo più tempo cioè la crescita dell'Internet of Things non è qualcuno ha sentito prima dire hanno dipinto scenari fra dieci anni no 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 hanno dipinto i scenari dei prossimi nove dodici ventiquattro mesi è già così è già così e qualcuno lo sta già utilizzando anche nella PA italiana quindi per l'amor del cielo non pensiamo che quello sia futuro lontano è oggi è domani non di più a Summer School 2018 dovremo per forza fare il bilancio di quanto la sanità ha utilizzato già quegli strumenti perché sono completamente rivoluzionari allora l'appello all'intelligenza umana va in due direzioni il primo nell'ambito di chi fa innovazione tema di oggi tema di tutto le altre giorni è sostenibilità governance e innovazione allora l'appello è si fa innovazione solo violando le leggi lo sappiamo mi spiace che Berisario se ne sia andato è utopia era così 30 anni fa è ancora così oggi mi dispiace che Berisario se ne sia andato è utopia pensare che la norma porti all'innovazione la norma qualcuno prima l'ha detto segue l'innovazione la consolida eventualmente la fa diventare progresso comune ma se uno nella PA vuole innovare deve infrangere la legge questo è palese non c'è alternativa ripeto è così da tanti anni e così lo sarà col GDPR poi la dovrà infrangere brutalmente perché se uno rispetta pieno il nuovo regolamento sulla privacy non fa non fa mezza innovazione neanche se si mette a piangere in turco la manno invece quindi dicevo l'intelligenza perché non basta la legge non basta la tecnologia o meglio la tecnologia abilita ci sono partner come come Reply prima ma ce ne sono infiniti nel mercato che ci porteranno soluzioni stratosferiche nei prossimi mesi già ci sono e ce ne saranno sempre di più soluzioni che noi consideriamo intelligenti in realtà l'accezione vera di intelligenza oggi è sistema esperto molto voluto perché il potere computazionale oggi disponibile ha raggiunto livelli che erano inimmaginabili prima e consente di dare risposte che sono praticamente risposte intelligenti però rispetto all'intelligenza vera lo dice uno che ahimè io sarei laureato poi non riesco a sfruttarlo appena però sarei laureato in robotica cibernetica e bioelettronica quindi come indirizzo specializzato quindi conosco bene la materia da più di 30 anni però in realtà non gli stessi test che utilizziamo oggi per valutare l'intelligenza artificiale sono ancora appunto quelli di Turing quando la definizione presupponeva che non ci fosse capacità computazionale oggi c'è una capacità computazionale talmente elevata che quei test oggi vengono superati da alcune soluzioni anche se in realtà non sono intelligenti nell'accezione che noi intendiamo ma al di là di tutto questo intelligenza umana ripeto perché dobbiamo aggiungere una dimensione va benissimo il piano triennale va benissimo il CAD va benissimo le nuove tecnologie ma qua se non facciamo un piano di crescita delle competenze digitali paese no pubblica amministrazione paese perché nel privato qualcuno ha citato le banche prima mi viene da piangere se io penso al tempo che le banche hanno impiegato per neanche eliminare la carta per ridurre la carta negli uffici perché chiunque di voi abbia un mutuo da almeno dieci anni lo vuole negoziare va in banca e gli viene chiesto di portare la propria copia cartacea del mutuo perché loro non ce l'hanno e non l'hanno digitalizzata devono chiederle agli archivi centrali della banca che nel frattempo ci è accorpata archivi centrali che stanno o a Torino o a Napoli o chissà dove gli servono dalle tre le quattro settimane per avere la copia cartacea del vostro mutuo e quindi ve la chiedono a voi per poterle rinegoziare cioè follia lo stato puro quindi soprassediamo sul sistema privato serve crescita delle competenze è storico lo sappiamo abbiamo gli indirizzi tecnici siamo sotto le percentuali medie europee siamo più arretrati in assoluto bisogna investire in quella direzione è ridicolo che mandiamo a casa tantissimi candidati a fare i medici ogni anno perché col numero chiuso li escludiamo e non affianchiamo indirizzi che fanno ad esempio medicina digitale ma affianchiamogli facciamo fare medicina che è quella che serve ma applicata al digitale in modo nativo perché è quello che ci serve e chi ce lo dimostra? Ce lo dimostra chi lo ha già fatto Teddi o magari qualcuno se qualcuno l'ha già sentito ma a Trento hanno fatto TREC la cartella clinica del paziente segue alcuni cronici non mi interessa l'esperienza in quanto tale l'esperienza di TREC fa già quello che è stato citato oggi abbiamo già detto a più riprese quindi ha individuato un modello i privati sviluppano la tecnologia la danno a disposizione del cittadino il medico con un decision support system prescrive la app al paziente il paziente cronico o comunque la patologia che ha usa la app rileva i dati con i device che ha quindi con quello per misurare la glicemia piuttosto che il elevatore della pressione piuttosto che cosa è successo a Trento quando hanno fatto questa esperienza che è già stata sperimentata da un anno da quattro medici e adesso è in estensione a tutti i medici di base di Trento come esperienza e seguono tutti i cronici sono partiti dai cronici del diabete ma non importa poi se cercate su internet andate a vedere i filmati ci sono i filmati delle infermiere dei pazienti che hanno seguito eccetera eccetera tutti entusiasti di questo perché consente ovviamente di avere un successo strepitoso ma al di là di questo cosa ci dice Trento Trento ci dice noi moreremo sotto a questa esperienza perché non abbiamo infermieri specializzati nel leggere i dati che i pazienti raccolgono non abbiamo i medici che hanno il tempo come ha detto prima tutti i medici presenti oggi che sono intervenuti stamattina sia prima sia dopo ci dicono tutti va cambiata la loro professione vanno sgravati di una certa quantità di adempimenti che sono quasi burocratico amministrativi ormai e a favore dell'analisi dei dati e del confronto col paziente è evidente questo quindi l'appello all'intelligenza umana è per favore facciamo un piano di crescita digitale di competenze digitali perché noi continuiamo a fare norme continuiamo a fare piani triennali bellissimi ma saranno norme morte inapplicate saranno piani triennali inapplicati perché non avremo utilizzato quello ma esistono degli strumenti sì esistono degli strumenti abbiamo una lettera morta che si chiama patto di sanità digitale lo hanno fatto le regioni con il ministero della salute l'hanno firmato ormai da due anni hanno previsto che il privato faccia delle cose e le finanzi anche non hanno messo nessun né incentivo né spinta da sola la macchina non partirà mai basterebbe fare una cosa concordare fra le regioni e il ministero un chip di investimento iniziale per mettere in moto progetti che vadano in questa direzione e non per l'informatizzazione generale che non serve più a nessuno l'informatizzazione generale del sistema sanitario perché se non la facciamo noi come PA ci arriveranno i soggetti privati che con i macchinari direttamente saranno digitalizzati completamente non avremo bisogno di investire più di tanto noi saranno interoperabili eccetera eccetera ma su cosa dobbiamo lavorare su due ambiti l'abbiamo noi come regioni l'abbiamo detto fin dall'inizio purtroppo inascoltati prevenzione perché tutti i wearable sulla salute ci portano a una quantità di dati big data detti prima infiniti personali dobbiamo creare coscienza nel cittadino sulla gestione del proprio dato personale perché non è vero che non si può dare nessun dato personale oggi Belisario ci ha detto che ha due anni al disco che corre che è avvocato che fa consulente che fa parte di una serie di cose ci ha detto un sacco di informazioni personali ok la registrazione di oggi data in pasto la elabora e tira fuori un dossier sull'innesto Belisario lui ne è consapevole perché tratta la legge sul ggpr ma i restanti cittadini non sono consapevoli di questo quindi noi dobbiamo va bene fare gdpr ma facciamo una campagna informativa sui cittadini sui propri diritti e sulle modalità con le quali con le quali gestire i propri diritti perché manca quella cultura quando dicevo di cultura paese mi riferivo alla PA al privato e al cittadino ci manca cultura da questo punto di vista prevenzione perché è palese che elaborando quei dati noi siamo in grado di sapere un sacco di cose l'ultima uscita tranquillamente esistono strumenti di analisi respirando semplicemente respirando con un boccaglio riesco a prevenire con larghissimo anticipo anni di anticipo se io ho in avvio un'attività cancerosa nell'ambito del sistema ad esempio polmonare chiudo l'altro la continuità assistenziale è ora di fare sistema punto gli ospedali riducono sempre di più il numero di giorni di diligenza lo sappiamo tutti perché sono un costo i servizi annessi e quant'altro e scaricano tutto poi sulla continuità assistenziale che è in carico ai comuni alle cooperative agli assistenti sociali dobbiamo investire in quel settore perché manca completamente una continuità assistenziale che sappia gestire il dato dall'ospedale al territorio all'assistente sociale al paziente che usa quei dati quel sistema che abbiamo visto prima dell'osservatorio della soviglianza in casa ha senso se e solo se viene integrato nel sistema degli assistenti sociali e del sistema sanitario ASL e ospedale è l'unica possibilità che abbiamo non investiamo in altre cose investiamo in questi due settori perché siamo già molto indietro dobbiamo recuperare un gap grossissimo scusate e scusate in particolare Roberto adesso sono 50 e siccome sono rimasto ultimo ed ero ultimo anche l'altra sera e non le ho potute presentare le presenterò tutte no e obiettivamente certo risparmi il pranzo tu credo che ci suicidiamo tutti no allora sicuramente chiudere per ultimo è difficile tanto per il tempo con cui siete stati attenti a tutte le presentazioni tutti questi giorni quindi vorrei dare alcune suggestioni c'erano nel 2016 ci sono nel 2017 spero di esserci nel 2018 e quindi provo a tirare un fio rouge però la cosa più importante è che io porto a casa dell'esperienza come è successo l'anno scorso è successo quest'anno e intanto i molti colloqui individuali che io ho avuto con soggetti che mi hanno trasferito delle loro conoscenze che per noi informatici che stanno dall'altra parte quelli che costruiscono i software quelli che devono mettere in condizione di elaborare i dati come elaborare i dati comunque è la permeazione dell'esigenza cosa mi servirebbe quanto mi piacerebbe ovviamente si possono fare tante cose non tutte io faccio parte del mondo pubblico nel mondo pubblico la violazione delle norme delle leggi costa cara molto cara e quindi cerchiamo di non farlo e quindi bisogna capire reciprocamente i propri limiti tra le tante cose di cui ho avuto modo di discutere con alcuni di voi poi faccio il fil rouge e per esempio l'ho detto anche l'altra sera la responsabilizzazione si è parlato di vaccini di conoscenza il cittadino deve sapere il perimetro dei propri diritti e quando nega determinati consensi sulla salute in realtà cosa sta negando esattamente come quando decide scientemente di non fare un vaccino che cosa sta negando e ci sono due elementi fondamentali che valgono come per i vaccini una cosa per se stessa non lo faccio io corro un rischio e una cosa per tutti gli altri se non metto a disposizione il mio dato in realtà non do beneficio a tutti gli altri perché dico questo perché quando esaminiamo tecnologie di elaborazione sul dato ci sono degli effetti che derivano dal fatto che se ne esaminano molti determinano una statistica attendibile e quindi vuol dire che in molti a soggetti credibili evidentemente trastati uno dei traste tipici come direbbero gli anglosassoni il termine traste fiduciario è la pubblica amministrazione fuori di dubbio ma anche i medici di medicina generale cioè tutti quelli con cui si entra in relazione e se io con loro perché ho un trust do fiducia e metto a disposizione il mio dato creo una base statistica che poi torna sul singolo perché se io riesco a profilare meglio anticipo probabilmente dei fenomeni con molti di voi a pranzo a cena durante la manifestazione ne abbiamo parlato e su questo per esempio noi stiamo dialogando con il garante della privacy perché una cosa importante è il fine della ricerca quando io parlo di cittadino che dà il consenso al caricamento del dato sul fascicolo e poi a chi può entrare dentro gli elementi di fascicolo tipicamente penso al medico penso alla struttura sanitaria in realtà ci sono almeno due altri mondi che potrebbero dare risposte sia alla collettività che al singolo indirettamente allora il primo è il mondo della ricerca scientifica qualcuno l'ha detto ieri che aveva difficoltà il professore non mi ricordo quando parlava delle analisi che faceva col Mise il dato è importante per fare previsioni valutazioni che determinano per esempio come guido la spesa che cosa mi aspetto nella spesa tutti hanno parlato di sostenibilità i soldi decrescono certo sì vero se noi fossimo un'azienda normale non voglio dire che la sanità deve ragionare come le imprese però certamente le imprese fanno marketing il marketing legge il mercato il mercato è fatto di bisogni la sanità è un bisogno primario della cittadinanza vorrei capire qual è il trend i trend sono anche provare a capire come io potrei incorrere in una patologia cronica se i miei comportamenti non sono stati ideali bene attraverso la raccolta dei dati la stabilizzazione di questi dati in maniera omogenea uniforme leggendo anche lo storico che molte regioni hanno nei fascicoli sanitari sono in grado di fare prevenzione mirata su fasce di popolazione questo vuol dire che so cosa mi aspetto so dove dovrò investire in tecnologie ma anche in strutture oggi non siamo per niente certi che le strutture erogative mappano la domanda che ognuna delle regioni ha sul proprio territorio pochi hanno letto il dato sanitario come struttura erogativa rispetto a domanda questo non viene fatto quindi per dire bisogna discutere col garante di queste cose bisogna discutere da un lato con la legge con chi fa le leggi e le norme dall'altro bisogna spiegare ai cittadini il diritto e cosa e quali confini il diritto per gestirlo opportunamente dà la possibilità al cittadino di decidere in maniera trastata a chi dare informazioni e quali sono gli scopi più ampi che derivano dall'aver dato questa disponibilità rapida storia tre minuti e chiudo questo perché è colpa di Morion 2016 2017 vediamo il 2018 2016 incontro domanda offerta l'ho citato prima l'anno scorso io vi dissi che stavamo lavorando sulla stratificazione allora intanto un particolare sulla stratificazione per i profili di cronicità che oggi siamo arrivati a definire essere 65 in Lombardia forse magari per tutta Italia in Lombardia su una statistica di 10 milioni di abitanti nei 15 anni con cui sono stati raccolti i dati le dimensioni ci dicono che sono 65 con tre livelli di intensità l'anno scorso ci stavamo lavorando oggi sono l'elemento cardine su cui è stato costruito il modello di presa in carico e l'attuazione della legge 23 stiamo parlando di un dato che era statico è statico introdurre wearable quindi parlo del 2018 molte cose di quelle che sono state dette in questi giorni molto di quello che è stato detto prima sia da Hermes per quanto riguarda possibilità sui comportamenti che possono essere abbinati al dato del fascicolo sanitario che è un dato un po' burosaurico mettiamolo così renderebbero una fotografia in realtà una dinamica cioè io riesco a fare molto di più le tecnologie mi portano al predittivo l'analisi col predittivo è di natura differenziale il medico quello che si porta a casa non è il sostituto della diagnosi è l'affiancamento alla sua diagnosi per confrontarsi oggi noi saremmo in grado con i motori di intelligenza artificiale e di analisi dei dati in profondità su questi archivi a capire in maniera automatica quello che per noi è stato un anno di lavoro in un gruppo multidisciplinare altra terminologia che è venuta fuori frequentemente in questi giorni fatto da medici statistici ed informatici l'esito delle 65 profilazioni e tre intensità è un frutto di un lavoro interdisciplinare dove però il primo elemento è stato far distaccare il medico presso gli uffici dell'informatica perché finché stava dall'altra parte lui non capiva noi e finché noi eravamo da questa parte di qua non capivamo lui quando l'abbiamo portato nei nostri uffici e ha iniziato a lavorare 8 ore al giorno si è innamorato e finalmente i risultati sono arrivati di qui in avanti le nuove tecnologie ci danno molto di più ci possono permettere di avere più informazioni i medici di medicina in generale alle strutture e poi da queste sommate sugli archivi centrali di lì predittività sull'informazione maggiore guida su quella che potrebbe essere la futura spesa tutto questo se il cittadino ci dice quel dato lo puoi usare ma lo dobbiamo poter usare non a fine di se stesso in quel momento ma a un fine più largo ricerca scientifica e ricerca tecnologica deep search machine learning e ricerca tecnologica non è solo scientifica questo è quello che stiamo cercando di spiegare al garante della privacy per andare non a un ammorbidimento del GDPR ma a un allargamento della comprensione del GDPR e adesso veramente chiudo e vi aspetto per il 2018 con un nuovo film grazie audio jungle audio jungle grazie a tutti